stare lì sopra è bello all'inizio diciamo nessuno se lo aspettava che a questo punto del campionato diciamo potiamo trovarci lì e ora ci siamo e ci proviamo vincere più partite possibili senza guardare troppo in là è l'unica ricetta che il nordò conosce per continuare a inseguire i sogni di vetta nelle dieci partite che separano dal termine della regular season legittimati da una classifica che vede il team di nicola ragno a meno uno dalla cavese capolista nello specchietto retrovisore c'è invece l'uno a zero di domenica scorsa al gladiator sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra ostica una squadra comunque difficile da affrontare abbiamo approcciato benissimo la gara siamo passati subito in vantaggio e poi diciamo tra virgolette non siamo stati bravi a chiuderla merito un po del gladiator un po non so non abbiamo sfruttato delle occasioni abbiamo sbagliato un rigore un salvataggio sulla linea però diciamo che il gladiator non è che ci ha in pensi di doppio di tanto è complicatissimo far gol al nardò squadra che ha incassato appena 13 gol in campionato nessuno ha fatto meglio nel girone h di serie d sono cinque i clean sheet di fila l'ultimo centro incassato risale al 15 gennaio nella vittoria per 2 a 1 del giovanni paolo secondo contro il matera è merito di tutta la squadra se non si subisce gol il merito parte dagli attaccanti centrocampisti che fanno un lavoro straordinario per finire la difesa e il portiere facciamo tutti un lavoro straordinario ovviamente orchestrati dal dallo staff tecnico dal mister che cura ogni minimo particolare domenica si torna in campo a francavilla insinni contro un avversario quartultimo ma in serie positiva da cinque turni tra le mura amiche russo chiede ai suoi di tenere alta l'asticella dell'attenzione vengono da una sconfitta col matera ma sappiamo che comunque a parte la squadra allestita è una squadra di tutto rispetto sono ci sono giocatori importanti poi sappiamo che quel campo è difficilissimo è difficilissimo poter diciamo esprimere gioco sarà sicuramente difficilissima è un esame molto duro da superare